Il sistema Easy Park Assist assiste il conducente durante le manovre di parcheggio. È possibile attivare questa funzione tramite il pulsante sulla console centrale. La spia del contattore si accende e viene visualizzato lo schermo multifunzione. Il sistema è in grado di effettuare quattro tipi di manovra. Parcheggio parallelo. Parcheggio perpendicolare. Parcheggio in diagonale. Uscita da uno spazio di parcheggio parallelo. Selezionare il tipo di parcheggio richiesto dal menu. Quindi azionare le spie delle luci indicatrici di direzione per il lato richiesto. Se la velocità del veicolo è inferiore a 30 km orari, i sensori a ultrasuoni del sistema rilevano e identificano le aree di parcheggio disponibili. Una volta individuata, l'area viene visualizzata sullo schermo multifunzione e identificata dalla lettera P finché non viene visualizzato il messaggio arresto accompagnato da un segnale acustico. La manovra viene quindi delegata al veicolo e il conducente non dovrà compiere alcuna azione sul volante. Tuttavia, il conducente deve selezionare la marcia, comandare l'acceleratore e i freni e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo multifunzione. Il conducente, inoltre, può utilizzare il parcheggio assistito classico. Al termine della manovra, la spia con la lettera P sul quadro della strumentazione si spegne, si avverte un segnale acustico e viene visualizzato il messaggio manovra terminata. Manovra terminata 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 Manovra terminata